benvenuti a tutti al nostro nuovo appuntamento con cinque minuti con aie oggi sono particolarmente felice in parte emozionato perché ho una bellissima intervista con il nostro presidente benvenuto alberto grazie gianluca fra l'altro questa è un'iniziativa per chi non lo sapesse ideata proprio dal nostro presidente quindi siamo qui per merito suo a raccontarvi un po della nostra accademia allora alberto i trent'anni dell'accademia che valore ha essere presidente in questa occasione così importante per te che sei stato uno dei primi soci dell'accademia assolutamente sì ma guarda ti dico la verità che è una grossissima emozione anche perché mai avrei pensato che potessi diventare presidente dell'accademia e che la mia e la mia presidenza il mio pieno cadesse proprio in concomitanza dei trent'anni dell'accademia per cui è una grossa emozione anche un grossissimo onore sì sono un socio storico in un certo senso posso dire anche purtroppo perché sono passati i 30 anni e infatti faccio parte di quel primo gruppo di soci attivi che è diventato diciamo il nucleo i soci promotori da cui poi è iniziata questa fantastica avventura ti posso dire che la mia prima è nata è stata una curiosità nata quel tempo vedendo questa nuova società che era nata da alcuni chiamiamoli pure se vuoi fuoriusciti e che vuole iniziare questa nuova esperienza questa nuova avventura con tutti gli incogniti le sema e forse però c'è stata una grossa curiosità nei confronti di questa nuova iniziativa e quindi mi sono avvicinato tantissimo curiosità chiaramente vabbè i soci fondatori erano professionisti d'altro livello che comunque erano anche i miei modelli con chi io seguivo quegli anni perché erano quelli che comunque da cui potevo imparare tanto e poi è stato così una una sfida con me stesso perché avere la possibilità di presentare dei casi avrei potuto così avere una verifica di come stavo lavorando quindi se professorialmente potevo dire qualcosa per come è andata l'accademia in questi 30 anni sempre in crescendo insomma curiosità e tanto lavoro ha portato dei grossi risultati alberto poi diciamo che come quando forse ti innamori è stata una cosa che man mano nel tempo è diventato un amore sempre più grande e alla fine vabbè siamo arrivati al ruolo che ho adesso ecco e ti devo dire che non ti posso dire che vabbè c'è un grossissimo affetto nei confronti dell'accademia di tutti i soci che ne fanno per te ecco benissimo benissimo senti parliamo proprio più specificatamente del nostro prossimo congresso che ha un bellissimo programma io adesso metto ogni tanto i banner per per consentire ai colleghi poi di guardare sul nostro sito però mi piace chiamarla anche una festa perché c'è tutta una parte dedicata proprio ai soci attivi è un po' una festa della nostra accademia no assolutamente sì allora sulla diciamo sul programma scientifico del trentesimo congresso sicuramente c'è poco da dire sia per gli argomenti che verranno svolti sia soprattutto per i relatori che hanno accettato in maniera direi con grosso entusiasmo di partecipare e già se apriamo il pre congressuale con dottor poggio il nostro socio attivo riccardo dosoli con un argomento diciamo più multidisciplinare no quindi protesi endodontica e poi invece venerdì sarà una giornata prettamente endodontica se la così vogliamo chiamare diciamo un pochino lontano dalla quella multidisciplinarietà che di solito contraddistingue i nostri congressi e abbiamo voluto lasciare spazio chi si interessa di endodonzia più specificatamente e proprio per vedere dopo trent'anni era un po il punto della situazione quindi abbiamo pensato di mettere a confronto la biologia con la tecnologia e per vedere se alla fine ci può essere una sinergia come credo che ci sia vedere se ci sono nuove opportunità per quanto riguarda il sistema dell'indicazione detersione perché ormai non si può più parlare di segommatura senza detersione e irrigazione anzi direi che ormai è un solo momento è un solo unico step di un trattamento endodontico poi l'ottorazione con i nuovi bisela e poi credo e quindi coi nomi di con relatori di forma internazionale assolutamente l'altra cosa che mi piace sottolineare è la giornata del sabato che è un po fuori da quelli che erano i nostri canoni nel senso che non ci saranno delle relazioni ma la sessione interattiva dove si è pensato ed edificare la mattinata ad interventi dei nostri associativi a perlomeno uno primo tempo ha pensato di concedere dello spazio a tutti i nostri associativi che avessero voluto presentare delle piccole relazioni lavori eccetera e poi invece abbiamo pensato che era più corretto dare questa opportunità anche tutti i soci dell'accademia quindi anche i soci ordinari perché tra i soci ordinari ci possono essere più fiori di professionisti che magari perché non dare questa opportunità e quindi è un qualcosa di forse nuovo che può essere qualcosa che può poi continuare nel tempo con altre nelle nostre altre una bella una bella novità che permetterà tanti colleghi di farci vedere dei bellissimi lavori va bene alberto io ti ringrazio per la chiacchierata aspettiamo tutti i nostri colleghi al congresso e salutiamo come facciamo sempre noi in aie no con stai con aie e ci vediamo vi aspettiamo numerosissimi grazie è un caro saluto a tutti ciao luca grazie a te ciao